Il progetto Sanza Borgo dell'Accoglienza ha affascinato i buyers stranieri ieri nel corso di una manifestazione che si è svolta nel centro storico della cittadina. Provenienti dalla Germania, dall'Austria, dall'Inghilterra e persino dal Giappone, i buyers sono rimasti incantati dall'accoglienza ricevuta, dai servizi offerti ma soprattutto dal paesaggio e dalla natura incontaminata che il Borgo ai piedi del Cervati offre insieme a tutto il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Sanza ha dunque incantato ieri con il progetto Borgo dell'Accoglienza che ha destato interesse e apprezzamento. Una visita nel cuore del Borgo, poi l'incontro nell'antica chiesetta dell'Arci Confraternita Maria Santissima della Neve, dove la Proloco, l'Associazione 3T del Cervati, il Circolo Agli e l'Amministrazione Comunale hanno illustrato l'offerta turistica locale e le molteplici opportunità di scoperta del territorio attraverso i percorsi trekking che conducono alla vetta della campagna il Monte Cervati. Venti tour operator per consolidare la rete dell'accoglienza con la collaborazione importante del network Cilento Mania che assumerà il ruolo di front office dell'offerta turistica di Sanza nella prestigiosa sede dei Templi di Pestum. La neve e il turismo invernale, ma anche la montagna in tutte le sue declinazioni, con soprattutto la possibilità di vivere e condividere la tranquillità del Borgo e la socialità della comunità. Questa è la richiesta specifica manifestata dai buyers stranieri nel corso dell'iniziativa che si è tenuta nel pomeriggio di ieri nel cuore del Centro Storico di Sanza. Grazie a tutti.